Madame, al secolo Francesca Calearo, riceve una risposta gelida dalla collega, quando la retorica social non paga. Madame, al secolo Francesca Calearo, ha commentato gli scatti di Arisa divenuti virali in queste ore, ricevendo una replica, gelatissima, dalla cantante. Nel corso della mattinata di lunedì 28 agosto, Rosalba Pippa, vero nome dell'artista della notte, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto in cui si è ritratta come mamma l'ha fatta. In un batter d'occhio sono piovuti migliaia di commenti. Diversi colleghi si sono complimentati con l'ex prof di canto di amici. Tra questi appunto Madame che ha scritto un tenero, ti amo. Per la risa, però, l'uscita è stata tutt'altro che convincente e infatti ha rifilato alla Calearo una replica fulminante. Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai. Strano modo di amare. La risposta ha raccolto migliaia e migliaia di lichè, e una miriade di sfottò da parte degli utenti che hanno spernacchiato Madame. Il punto è che pare proprio che Rosalba non stesse scherzando. Insomma, volete o nolente, sembra che abbia voluto smascherare Madame, sottolineando che sarebbe meglio rispondere in privato alle persone che si, amano, piuttosto che spuntare con commenti retorici sotto ai post virali. Altrimenti detto, la giovane Calearo, ha fatto una figura non proprio memorabile. Anzi gliel'ha fatta fare a risa.